Sì è vero, il contraccettivo può provocare cistiti ricorrenti, ovviamente in pazienti predisposte per lo più quando questo accade dopo qualche mese di assunzione oppure in pazienti che assumono per molti anni la pillola, questo perché all'interno del contraccettivo è presente per lo più progestinico e minima parte estrogeno e la minima parte di estrogeno non sarà mai sufficiente a mantenere il trofismo delle mucose e quindi queste atrofizzate prive di una loro idratazione, di un loro benessere poi danno quella sintomatologia che viene definita cistite, che possono essere cistite a batteriche o complicarsi con i batteri diventando cistiti batteriche che si manifestano ogni qualvolta le mucose vengono sollecitate. Cosa fare? Nelle pazienti che possono sospendere la pillola se le si chiede di sospenderla anche se gli si deve dire che la ripresa del trofismo mucoso non sarà immediato ma ci vorrà qualche tempo. Per chi non la può sospendere tipo pazienti che hanno vaio policistico o endometriosi allora magari si cerca di correggere il deficit estrogenico a livello locale se è possibile con delle terapie etopiche oppure con laser. In ogni caso va attentamente valutata la situazione col ginecologo o l'urologo per poter dare benessere alla donna a livello urogenitale e mantenere gli effetti di un eventuale contraccettivo.